Giorgio Pedrollo, vicepresidente della Scaligera Basket, si riparte con Nuova Linfa in questo progetto triennale con l'arrivo di Alessandro Giuliani. Una trattativa molto veloce, Alessandro conosce perfettamente l'ambiente, si riparte da qui. Sicuramente Nuova Linfa, ne abbiamo bisogno, la necessitiamo e speriamo di ricevere tante anche dal nostro pubblico, perché ricordo che senza di loro noi siamo sempre in difficoltà, perché per noi è il nostro sesto uomo in tutto. Quindi chiedo al nostro pubblico di credere in noi, credere nel proseguo del progetto, credere nel terzo anno, credere, ma credo che non ci sia andato bisogno che lo dicano alle Giuliani che ben conoscono tutti, ma soprattutto di supportarci con la loro fiducia, con un lottifo che per noi è determinante. Un passo in più, un general manager di altissimo livello, che può solo che far bene perché è trovato a casa sua. La proprietà, il nuovo general manager, l'allenatore che Ted Zennis stanno disegnando? Ma sta disegnando la Ted Zennis, sicuramente diversa dagli altri anni, sotto l'aspetto di dove andremo a mettere gli americani, nel senso che non saranno una guardia o con una guardia in panchina, ma saranno un play americano e una guardia americana, forse anche comunitaria, per avere un vantaggio di tenere un visto, se necessario, vedi Treviso che l'ha utilizzato molto bene. Però chiaramente questo è compito di Ale Giuliani, sapere lui come muovere su queste cose qua. E due italiani di spessore, importante, quindi di esperienza, di background, che abbiano già giocato partite importanti o finali o semifinali, insomma, da partire dalla panchina. In conferenza stampa si è parlato non solo di Prima Squadra, ma anche di altri progetti sui quali lavorerà Alessandro Giuliani. Uno di questi è un'attenzione particolare che riceverà anche il settore giovanile. Sì, è una cosa che insisto a tanti anni e in cui credo molto. Non è facile perché il terrore mio principale, come padre di famiglia, ma anche da parte del Presidente, nel creare la foresteria e mettere dei giovani, anche stranieri, da poter far diventare e trasformare in italiani, è di poterli seguire al 100%, di non creare mai delle problematiche, la famiglia di origine o il ragazzo. Questo non è facilissimo perché avere un responsabile tutto tondo, quindi 24 ore al giorno, non è facile da trovare o da individuare. Però rimango dell'idea che sia il futuro del basket, il futuro di Verona, cioè creare dei talenti, come si faceva una volta con la Glaxo, in casa. Se ne prenderanno 5, 4, 3, ne uscirà uno. È chiaro che non saranno tutti azzeccati, ma sicuramente si riuscirà a creare dei talenti. Nel prossimo degli anni.